Quanti grassi mangiare, soprattutto quali grassi devo mangiare, quanto posso spingermi di burro, di arachidi, di avocado, posso utilizzare i grassi di grassi saturi, insomma cerchiamo un po' di capire e di fare carezza sull'argomento. Allora, prima di iniziare io come al solito ti ricordo iscriviti al canale perché così non ti perdi nessun video e clicca sulla campanella che ti manda le notifiche quando nuovi video escono, quindi forse in te non mi perderei veramente niente, non perderti niente. Allora, parliamo di grassi. Innanzitutto per quanto riguarda la quantità di grassi andiamo molto su breve perché ci sono altri video dedicati e stiamo su uno 0,7 un grammo per chilo di peso corporeo di grassi al giorno però come media settimanale, quindi alcuni giorni, giorni ondi, allenamento possono stare più basso, nei giorni off un po' più alti. Ora, per quanto riguarda i grassi però c'è da chiarire che in campo nutrizionale la maggior parte dei nutrizionisti sono concordi nel ritenere che non è tanto la quantità di grassi a essere importante ma la qualità. Perché questo? Perché i grassi abbiamo detto hanno delle funzioni, sappiamo come tutti i nutrienti, energetiche, delle funzioni strutturali, quindi pareti della membrana in generale, ormoni e delle funzioni regolatorie. E qua casca l'asino perché delle funzioni regolatorie sono molto importanti perché pensiamo semplicemente all'equilibrio tra omega 3 e omega 6, hanno delle funzioni che sono molto differenti, opposte, e quindi da una parte antinfiammatoria, dall'altra proinfiammatoria, dall'altra depressione del sistema immunitario, dall'altra boost del sistema immunitario, dall'altra aggregazione piastrinica, dall'altra tende a aumentare i tempi di aggregazione piastrinica, eccetera, quindi sostanzialmente abbiamo due cose che sono entrambe essenziali, cioè dobbiamo trovare un equilibrio, non possiamo andare da una parte dall'altra, voi direte, vabbè, possiamo andare dalla parte del boost del sistema immunitario, eh no, perché ci sono poi il rischio di creare tantissime malattie autoimmuni, serve sempre un equilibrio nella vita, ragazzi, mi spiace, serve sempre un equilibrio, bisogna trovarlo, e quindi la tipologia di grassi è molto importante, non solo per l'equilibrio, ma perché alcuni grassi hanno un impatto molto importante negativo di per sé sul quadro lipidicomatico, per esempio, e degli altri acidi grassi sono correlati, per esempio, la catena degli omega 9 ha tantissimi input benefici della salute cardiovascolare in generale, quindi capire un attimo quali grassi è molto più importante poi, al lato pratico, di quanti mangiarne, sempre ricordando che è la quantità che fa il veleno, quindi non è che se prendi un pezzetto di omega 6 o un filo di carne rossa, allora chissà che cosa succede, aumenta il rischio, in realtà c'è una soglia da superare per queste cose, ma ci arriveremo, però generalmente possiamo dire che è uno 0,7 fino a un grammo per chilo di grassi, è un range che possiamo ritenere ottimale, poi ci sono molti range che si basano sulla percentuale dell'input calorico, però per noi bodybuilder, avendo calorie che salgono anche molto in fase di off-season e che scendono anche tanto in fase di contest prep, la percentuale sulla mole calorica non è tanto importante da considerare, quindi più o meno dovremmo stare qua, fatte le dovute eccezioni. Ora, la cosa importante quindi è parlare di quali grassi, da dove prendo le mie fonti, e qua un po' un dramma, perché ogni volta che parliamo di grassi, tutto quello che mangi c'è poco su cui poter puntare tanto, quando parliamo di saccari ci sono tantissime fonti, posso anche eccedere un po' su alcune fonti, non succede niente, parliamo di eccedere sulle fonti rimanendo in un range di macros, di quantità che è consono, però nel caso degli acidi grassi no, perché questo? Iniziamo con i grassi saturi, quindi la carne in generale, ecco, la carne, i grassi saturi della carne non è una fonte assolutamente ottimale, possiamo assumerne in moderate quantità, però devono essere assolutamente moderate, questa è una cosa molto importante, moderate non vuol dire un pochetto tutti i giorni, dovremmo stare basso, comunque scegliere dei tagli magri, però qua c'è il discorso relativo all'eccesso proteico, a cui rimanderemo, quindi questo è un primo discorso. Carne va bene, acidi grassi saturi dalla carne vanno bene, ma moderata è moderata quantità, normalmente si parla di un 10% nella mole di grassi totali giornalieri, quindi comunque 10% di saturi, non della carne, quindi ovviamente tutto il resto che mangiamo dobbiamo considerarlo. Le uova sono un'ottima fonte, perché in realtà sono principalmente ricche di mono e insaturi, ma hanno anche una buona percentuale di saturi, quindi in questo caso ottima fonte, ma logicamente non possiamo esagerare e mangiarne così tante, però è una delle migliori fonti in assoluto dal mio punto di vista, considerando che dobbiamo sempre stare attenti al discorso dell'input proteico, non eccessivamente alto, però le uova possiamo prenderne anche tante, anche tante al giorno, e il colesterolo non è un problema perché come abbiamo detto più volte non è tanto il colesterolo esogeno, quello che mangiamo dall'alimentazione, quanto piuttosto quello endogeno che produciamo, che è influenzato dall'alimentazione, ma non dal colesterolo che mangiamo, anzi principalmente in realtà dai livelli di insulina, dai carboidrati che mangiamo, di questo ne abbiamo parlato molto spesso, quindi le uova possiamo mangiarne anche diverse, anche tutti i giorni. Abbiamo poi i latticini, stesso discorso per gli acidi grassi saturi, non sono ottimali, quindi possiamo inserirne un po', ma non dobbiamo esagerare, se mangiamo carne e latticini capiamo che abbiamo già sovritto il nostro 10%, dobbiamo mangiarne veramente poco di ciascuno, quindi in genere è la regola un giorno o carne o latticini, e di latticini parliamo logicamente di latticini grassi, particolarmente grassi, particolarmente ricchi di grassi. Abbiamo poi il pesce, tu dici, vabbè Ludo, col pesce vado tranquillo, fermi un attimo, perché è vero, andiamo abbastanza tranquilli col pesce, ma bisogna vedere se è selvaggio o d'allevamento. Quello dell'allevamento è ricchissimo di omega 6, quindi l'omega 6 abbiamo già uno sbilanciamento a monte noi nella nostra alimentazione, se andiamo ad arricchirlo con del pesce grasso, tendiamo a creare un po' un casino da questo punto di vista, quindi sicuramente è moderato, ma cerchiamo di scegliere per salmone, o meglio pesce in generale, di selvaggio. E anche quando andiamo a prenderlo selvaggio, cerchiamo di avere delle cotture che siano molto delicate, perché gli omega 3, di cui è particolarmente ricco, almeno il pesce azzurro in generale, vogliamo preservarlo con cotture troppo aggressive, andiamo a giocarcelo. Non tutto per carità, perché un minimo si preserva, però ce ne giochiamo tanta parte. Quindi il salmone selvaggio poi tendenzialmente costa tanto, cotture gentili non è che sono il massimo della bontà, quindi per molte persone in realtà mangiare tanti omega 3 derivanti dal pesce, o comunque mangiare tanto pesce selvaggio cucinato così è più un dovere che altro, diciamo così. È molto oneroso da tutti i punti di vista, economico e del palato. Quindi questo è un po' tutto. La frutta secca, Ludo, la frutta secca, che mi dici della frutta secca? Anche in questo caso ottima, fonte sicuramente, ma particolarmente ricca di omega 6. Quindi anche in questo caso non posso farne un uso eccessivo, quindi devo in qualche modo andarla a limitare. Non devo mangiarne troppo, devo trovare un equilibrio con gli omega 3. Posso usare le noci, che sono particolarmente ricche di omega 3, ma gli omega 3 nella frutta secca, quindi da fonti che sono vegetali e non animali, non hanno una biodisponibilità come quelle delle fonti animali, perché non sono ricche di EPA e di HA, come invece per esempio nel caso del salmone e del pesce azzurro in generale, ma sono ricche di ala, che ha una biodisponibilità, una conversione in EPA e DHA, che è sicuramente molto inferiore. Quindi anche in questo caso non c'è un reale senso per abusare. Le fonti su cui possiamo puntare tanto, ah, un'altra fonte è il cioccolato, per esempio Ludo parli sempre della pasta di cacao, sì, una buona fonte in generale, anzi il cacao in generale è la fonte in assoluto più ricca alimentare di polifenoli, quindi sicuramente è da inserire, ma è composto molto da acidi grassi saturi, quindi anche in questo caso starne, assumerlo però non esagerare. Gli oli vegetali neanche a nominarli, gli oli tropicali insomma. L'olio di cocco, azione antibatterica e tutto il resto? Sì, ma io ad esempio lo faccio utilizzare in fasi di contest prep, cioè proprio pre-palco, prima di salire sul palco, però generalmente il discorso dell'olio di cocco principalmente è che è particolarmente ricco di acido laurico, quindi ha l'impatto sulla lipidemia ematica, quindi sul profilo dei lipidi ematico, forse uno dei più terribili in assoluto, quindi esagerare di olio di cocco non è esattamente una buona soluzione, anche se è vergine, eccetera, eccetera. La fonte che è particolarmente indicata, invece particolarmente utile, non ci sono effettivamente controindicazioni tra virgolette, è l'olio di oliva, anche se secondo alcuni tende a irritare un po' troppo le mucose dell'intestino, però generalmente l'olio di oliva è un'ottima fonte, particolarmente ricca di omega 9, abbiamo visto tantissime pubblicità sulle correlazioni del cuore, l'abbassamento dei trigliceridi, dei livelli di colesterolemia, eccetera, e allo stesso tempo l'avocado che è anche esso particolarmente ricco di omega 9. Ora, fermi un attimo, perché ovviamente non è che debbiamo uscirne dicendo ok, perfetto, quindi io devo mangiare soltanto olio d'oliva o avvocato, assolutamente no. Il discorso di base è che quando scegliamo i grassi, possiamo sicuramente avere un'abbondanza di olio extravergine d'oliva, sempre rimanendo il nostro amount, il nostro limite giornaliero, abbiamo x grammi di grassi, tanto olio d'oliva, olive ovviamente, tanto avocado, se ci piace, e poi inseriamo un pochetto di tutto il resto, ma sicuramente non mi gioco tutti i grassi tutti i giorni con la frutta secca o con la carne rossa o con il burro, il burro manco l'ho nominato, finiremoci, o con l'olio di cocco o con i formaggi, cioè cerco di avere il grosso derivante da degli grassi, degli acidi grassi in generale, ma dei grassi, delle fonti di grassi che siano quante più benefiche possibili. E questo è il motivo per cui le diete AI-FAT hanno poco senso sul lungo termine, oltre che per lo sportivo, cioè ragazzi facciamo uno sport anaerobico, neanche serve argomentarla come cosa, ma anche sul sedentario hanno poco senso nel lungo periodo. Perché? Perché nel momento in cui mangio tanti grassi e pochi carboidrati, io faccio addirittura la chitogenica, che cos'è che succede? Che io vado a eliminare tantissime fonti alimentari in generale, che sono le fonti più glucidiche, quindi legumi, ci mettiamo frutta, verdura, che riduco necessariamente tanto per fare la chitogenica vera e propria, ovviamente tutti i diversi cereali, i pseudocereali, d'altro canto riduco anche l'input proteico, quindi molte fonti proteiche, e vado a spingere su una tipologia di macronutriente che è presente in realmente poche fonti che posso sfruttare al massimo. Quindi il discorso è che io al supermercato non vado a prendere grassi, carbo e proteine, vado a prendere alimenti. Una dieta i-fat, low carb o ancora di più una chitogenica, è una dieta che da un punto di vista di varietà è molto povera, perché è una dieta poco varia, non ho varietà, non posso scegliere tanti alimenti, devo spingere molto sugli omega 9, sull'olio, sull'avocado dovrei almeno, non ha senso fare una chitogenica e sfondarsi di latticini e di salumi e formaggi, perché vada sì che non è proprio un toccasana, e quindi che cosa mi rimane? Mi rimangono pochi alimenti tra cui scegliere, ed escludo tanti alimenti, quindi mi vado a perdere tutto quel pool di microelementi, tutto quel pool di fitocomposti, che non voglio assolutamente perdermi. Quindi questo è un motivo per cui avere una varietà in generale e avere un'alimentazione che è tendenzialmente più ricca di carboidrati, soprattutto se facciamo un po' di building o sport anaerobico in generale. Ragazzi, questo è tutto per altri contenuti, ricordatevi di seguirci anche su Instagram, qua sotto ci sono i link ludovico.lemme, su Instagram vi aspetto perché ci sono tutta un'altra serie di reel, di contenuti, eccetera, e come sempre, qualsiasi domanda sarò ben lieto di rispondere qua sotto, e noi ci vediamo al prossimo video.